Gli infortuni sul lavoro non sono una emergenza perché si tratta di un dato strutturale e quando il lavoratore perde la vita non si parli di morti bianche. Per Gilda Zazzara, docente di storia del lavoro a Caffoscari, si tratta di una espressione fuorviante. Morti bianche è un'espressione che fa riferimento ad una fatalità e soprattutto ad un evento che non ha responsabilità accertabili e non è questo il caso. Nella storia repubblicana il picco di morti sul lavoro in Italia arriva in pieno boom economico, 4.600 decessi nel 1963. Quell'anno oltre 4.000 lavoratori subirono degli incidenti mortali e si era nel pieno del boom economico quindi in una fase in cui il lavoro c'era di grande benessere, di grande speranza, di grande crescita. Grazie alle lotte sindacali la cifra cala ma da 30 anni a questa parte è stabile in una forchetta tra 1.000 e 1.500 morti all'anno. Dagli anni 90 ormai abbiamo delle cifre stabili ed è anche inutile fare una contabilità dei 100 morti in più o dei 100 morti in meno. Bisogna probabilmente ritornare a mettere l'attenzione sul fatto che la sicurezza nei luoghi di lavoro dipende da quanto i lavoratori sono protagonisti, coinvolti e non ricattati rispetto alle loro condizioni di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.